ciao a tutti ben ritrovati nel canale eccoci qua con la nostra grazzatina oggi incominciamo con un puzzle ok volevo solo avvertirvi che le nostre dediche riprenderanno a breve oggi un video dedicato a tutti ancora ringrazio tutti ringrazio tutti per come mi siete vicini grazie tutti gli amici del canale e tutti quelli che mi hanno mandato un caloroso e affettuoso commento diciamo grazie grazie a tutti ancora una volta e passiamo la nostra trattata bene buona visione a tutti e vediamo questo punto quello che ti dico ok allora primo pezzo e un 40 vediamo se ce l'abbiamo ok poi abbiamo 23 23 non lo vedo abbiamo 53 seguo 15 15 neanche c'è 21 eccolo noi abbiamo il 59 seguo e 51 eccolo troviamo mezza stella abbiamo 37 che non c'è 32 eccolo seguo 44 che non abbiamo abbiamo 50 50 50 non c'è abbiamo 70 e anche lo vedo abbiamo 58 niente da paro 22 eccolo 10 sacchetti di soldi abbiamo 14 e poi abbiamo mezza corona comunque non possiamo vincere il l'ultimo numero 42 ma ci manco 65 e poi senza buglietto non vincente ok mettiamo da parte questo è un biglietto numero 29 della serie 93 ok allora adesso passiamo tutto per tutto numero 15 no numero la serie 15 numero 35 ok vediamo un po che ci dice allora numero 21 17 39 27 31 primo numero 26 segue 43 abbiamo 13 e 30 che non c'è abbiamo 28 c'è il 27 il 16 c'è il 17 40 non c'è e 18 c'è sempre 17 niente ultima colonna 25 12 niente 35 non ce l'abbiamo e 24 neanche allora biglietto numero 35 30 e per 20 e tutto per tutto adesso passiamo una doppia sfida abbiamo numero 25 della serie 37 ok numeri vincenzi 33 12 24 31 e 44 ok prima numero 34 e noi abbiamo il 24 e 33 abbiamo 17 49 e 47 niente abbiamo 22 le babarella non ci sono 27 13 13 c'è il 12 e 15 niente abbiamo 19 29 48 ultimo numero 44 gatti che ci sono si abbiamo preso 44 ok e quindi scopriamo 2100 100 e 500 mila noi abbiamo 10 50 e mille 25 100 e mille due volte 500 25 e 5 naturalmente sono i nostri il mio piccolo sono i nostri ok biglietto vincento con 25 e con 5 euro numero 25 ok mettiamo da parte adesso passiamo al miliardario numero 21 della serie 45 numeri vincenzi abbiamo 20 27 14 41 e 25 ok primo numero 13 niente 17 non c'è 11 non ce l'abbiamo 37 c'è il 27 e 23 niente abbiamo 15 15 c'è il 14 e 14 45 non ce l'abbiamo 43 niente 12 c'è il 14 e 40 non ce l'abbiamo 27 si l'abbiamo preso il numero 27 2 volte 34 non ce l'abbiamo 27 2 volte 30 30 c'è il 14 e 42 che non ce l'abbiamo 28 5 e 5 10 euro bene con il miliardario almeno abbiamo raggiunto 10 euro con il numero 21 ok 40 biglietto di oggi che è un triplo colpo questo è il numero 25 della serie 39 vediamo un po' che ci dice il triplo colpo triplo colpo allora due importi uguali ricordo 10 100 15 e 150 qui abbiamo i numeri vincenti 52 54 36 25 e 18 ok allora si questo è il primo numero 23 poi c'è il 34 che non abbiamo 31 non c'è e 38 non c'è neanche 55 abbiamo il 54 26 abbiamo il 25 e 17 c'è il 18 abbiamo 45 che non abbiamo 22 niente 42 non c'è e 13 niente primi due giochi per dentro vediamo con i dati due dati uguali 3 5 e 6 niente 1 6 e 2 6 4 e 5 5 5 1 e 3 niente biglietto non vincenti carissimi allora cosa abbiamo fatto oggi abbiamo grattato questi bigliettini sono 3 perdenti e 2 vincenti ok allora dicevo 3 perdenti e 2 vincenti allora 10 euro abbiamo preso con il miliardario e 5 euro con la tua fastidia e vabbè abbiamo fatto un po' di recupero amici certo non ci può sempre vincere si sa tanto vi ringrazio per la visione amici condividete iscrivetevi e pollice in su intanto vi saluto vi auguro una buona giornata vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao bacio bacio della lina ciao ciao a tutti carissimi amici scusate di nuovo la lina non ha butto un numero allora con il 40 abbiamo preso 5 euro sul dopo la sfida da 2 ok allora il recupero è stato di erano 10 di 20 euro non di 15 ok bene allora detto questo carissimi mi rivolgo anche a chi mi commenta che dice ho dimenticato si scusatemi che dimentico che non vedo però non mi posso sfuggire perché io con l'applicazione poi quando ricontrollo vedo se ho vinto o perso dunque grazie a tutti ancora ciao ciao un bacio un bacio Grazie a tutti